Più del coronavirus dobbiamo temere la paura e la Camera di Commercio di Arezzo e Siena a chiedere così che prevalgano toni e atteggiamenti responsabili. L'emergenza sanitaria si è infatti rapidamente trasformata in un'emergenza economica che sta interessando trasversalmente tutti i settori economici del territorio, dal turismo al commercio, dalla logistica alle fiere produttive tipiche del made in Italy. Ripercussioni che peraltro hanno già spinto il Governo nazionale ad individuare una serie di misure che dovranno essere varate in tempi rapidissimi. Si tratta di interventi che prevedono ad esempio meccanismi dilazionatori per gli addempimenti fiscali e contributivi moratorie sui mutui e azioni di supporto all'eventuale mancanza di liquidità delle imprese, oltre ad alcune tipologie di indennizi per i danni diretti e indiretti causati alle imprese. Il nostro impegno, prosegue la Camera di Commercio, è volto a fare la nostra parte con interventi mirati che la Giunta Camerale definirà a breve. Riteniamo inoltre in questa fase necessario prevedere la creazione in tempi rapidi di un'unica cabina di regia che sia in grado di individuare, coordinare e comunicare le più opportune tipologie di intervento a sostegno delle imprese. In sostanza, dobbiamo recuperare equilibrio e senso di responsabilità.